È un film che riguarda e tratta delle credenze delle tradizioni della Corsica, tradizioni ormai un po' perdute, e riguarda quello che noi chiamiamo il mazzerismo, e cioè i cacciatori di sogni, coloro che cercano negli occhi degli animali di ritrovare gli occhi di esseri umani che non ci sono più. Questi personaggi sono di fatto dei messaggeri che attraverso il sogno riescono ad accedere a un mondo o altro e a vedere il futuro. E mi interessava appunto guardare e studiare il rapporto che questi esseri hanno col mondo che li circonda.